Un tuffo nel passato per rivivere per qualche ora il clima e l'atmosfera della Monza Medievale. Si prepara a tornare questo sabato l'appuntamento della rievocazione storica monzese per questa 43esima edizione dedicata al compatrono San Gerardo di Tintori e alla fondazione dell'ospedale a lui intitolato. Fulcro dell'evento sarà ancora una volta il corteo storico con centinaia di figuranti in costume d'epoca pronti ad animare il centro di Monza per arrivare in piazza Duomo dove si svolgerà la magica esibizione della Compagnia dei Folli con attori, danzatori, trampolieri e acrobati per uno spettacolo da sempre ricco di emozione. L'accesso alla piazza è disponibile attraverso prenotazione ma quest'anno sarà possibile assistere alla serata anche tramite il maxischermo installato in piazza Trento e Trieste. Il programma comincerà già nel pomeriggio con il mercato medievale alla scoperta degli antichi mestieri e con prove di volo dei falconieri. Ma l'appuntamento quest'anno sarà anticipato da altre iniziative volte a creare la giusta atmosfera per un appuntamento che rinforzi sempre di più il senso di appartenenza alla memoria collettiva della città. In alcuni negozi del centro storico saranno esposti già in questi giorni le pregiate riproduzioni degli abiti dei figuranti con manufatti realizzati nel corso degli anni dai volontari delle associazioni legate alla rievocazione. Venerdì sera invece la risottata è in piazza Trento e Trieste con protagonista l'icona della cucina tipica brianzola, la Luganega. Aspettiamo anche quest'anno tante persone che vorranno affollare il centro storico per questa tradizionale rievocazione che non smetti di stupire osserva l'assessore al marketing territoriale di Monza Carlo Abba uno degli eventi di punta del nostro programma estivo Experience Monza che anima la città con un tributo importante alla sua storia. Grazie. Grazie.